Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro sito. Allora, è attualmente disponibile con 400 copie in Italia il film Ferrari, il film di Michael Mann che insomma ripercorre un momento della vita del fondatore della Ferrari in un anno molto complicato. E a raccontarci quel film oggi c'è Prisca Taruffi che è la figlia di Piero Taruffi che viene appunto rappresentato nel film da Patrick Dempsey. Prima di tutto Prisca, benvenuta al Corriere dello Sport. Grazie. Il nostro sito. Allora, Prisca, il film lo abbiamo visto, lo hai visto anche tu e la prima domanda non può che essere questa. Che emozione hai provato nel vedere tuo padre sullo schermo? Tuo padre ovviamente rappresentato da un attore americano bravissimo, Patrick Dempsey, che insomma tutti conosciamo. Allora, questo film lo aspettavo veramente da tantissimo tempo, quindi ero emozionatissima. Tra l'altro l'ho visto anche in compagnia delle mie nipoti. Mio fratello purtroppo non era presente perché era all'estero. E' stata un'emozione incredibile anche perché naturalmente se ne era parlato da tanto tempo. C'erano stati dei contatti anche con la produzione americana e anche con Patrick Dempsey, che ho avuto l'onore di conoscere. E vederlo lì, vederlo nei panni di mio padre, vestito con gli stessi abiti, questi capelli bianchi. Guarda, sono stati bravissimi, devo dire, truccatori a fare queste onde, no? Perché mio padre aveva tantissimi capelli. E vederlo nel film è stata un'emozione incredibile. Allora, Prisca, innanzitutto, va bene, tu hai ereditato da tuo padre la passione, ovviamente, per la velocità. Sei una ex pilota, ma in realtà poi si nasce pilota e si rimane pilota. Quindi non è ex, non è ex calciatore, no? Piloti si rimane sempre, comunque, secondo me. E, insomma, sei stata campionessa europea di rally, vicecampionessa europea di rally, campionessa italiana di rally. Hai vinto tantissime gare e spesso piazzandoli davanti ai maschi, questa sarà una domanda ai colleghi maschi, piloti, è una domanda successiva. Rimaniamo, però, appunto, nel racconto di Piero. Allora, lo hanno rappresentato bene, secondo te? Cioè, hanno rappresentato bene la leggenda di Piero? Guarda, sicuramente il ruolo di mio padre era un coprotagonista, perché c'era, naturalmente, tutta la storia incentrata su Ferrari, sulla sua storia personale, familiare, aziendale, eccetera. Però, devo dire che mi è piaciuto molto il ruolo di Patrick Densy e comunque hanno toccato anche dei punti belli. Si nota questo rapporto tra Ferrari e mio padre, che era, nel film, anche un rapporto, diciamo, tra virgolette, affettuoso, no? Perché mio padre era la quattordicesima mille miglia alla quale partecipava. Quindi Ferrari sapeva benissimo che papà voleva vincere a tutti i costi quella gara. Gli mancava solo quella gara, no? Nel suo palmaresse e quindi aveva anche promesso a mia madre che avrebbe smesso ricorrere se avesse vinto la mille miglia. E nel film era l'anziano, no? L'anziano del gruppo, della squadra fortissima Ferrari. Quindi, secondo me, viene interpretato molto bene. Si vede anche questo cameratismo tra i piloti. Ci sono delle scene bellissime dove tutti stanno insieme e sorridono. E quindi anche Ferrari viene dipinto da un punto di vista umano molto diverso dal Ferrari, per esempio, che ho conosciuto io, dal Ferrari cui si sente parlare. Ed è stato molto bello vedere queste immagini di Ferrari che stava insieme a tutti i suoi piloti, le pacche sulle spalle che si danno prima della partenza, la sofferenza nel momento della tragedia, delle cose brutte che esistono. Perché comunque l'automobilismo, si sa, a quei tempi soprattutto, è uno sport pericolosissimo. Quindi, secondo me, è stato interpretato molto bene. Poi c'erano dei particolari molto interessanti, tipo quando Patrick Dempsey sfoglia il block notice di papà, delle note che papà andava a prendere per le ricognizioni, il roadbook della Mille Miglia, tutto studiato nei minimi particolari, l'abbigliamento. Sono andati a vedere nell'autodromo di Vallelunga, dove noi abbiamo dato degli effetti personali di papà, sono andati a studiare come era vestito papà in quella Mille Miglia. e Patrick Dempsey, quando io ho avuto il piacere di parlarci, era interessatissimo, soprattutto, anche della Ferrari, della 315S. Quindi, insomma, ti hanno ovviamente coinvolto anche nel processo di scrittura e di realizzazione di questo film. Hai conosciuto anche Michael Manni, il regista, sul set? Sì, io e mio fratello siamo andati sul set a Modena e purtroppo era un set un po' statico, perché a me mi sarebbe piaciuto vedere in azione, no? Con le macchine. La pilota quale sei. Esatto. Però, poi sai, tutte queste cose sono molto complicate da mettere insieme, da organizzare, però è stato emozionante comunque andare sul set e vedere Patrick. A parte che lui è una persona di una carineria, di un'affettuosità. Ehi, Prisca, Paolo, così. Ma proprio come se ci conoscessimo, no? Da lunga data, così. E vedere questa sua passione, perché lui è pilota, no? Sai che lui ha un suo team con le Porsche, così. Quindi, comunque, era interessatissimo sapere da me tutti un po' dei particolari sulla Ferrari, sulla 315S, che io ho avuto il piacere di guidare, no? In una revocazione, per ricordare i 50 anni della Mille Miglia e ti devo dire che forse è stata la cosa più bella che ho fatto nella mia vita. E quindi, vederlo sul set, con i bigodini in testa, mentre la truccatrice gli toccava i capelli e cercava di fargli venire queste onde, perché papà aveva tantissimi capelli e lui, proprio in maniera serena, che parlava di tutti i particolari del film, non ci faceva le domande, è stato incredibile. Allora, il film racconta, appunto, come abbiamo detto prima, non so se l'avevamo detto prima, comunque, beh, lo sottolineo, insomma, un momento, appunto, nel 1957, che appunto l'anno in cui tuo padre vinse la Mille Miglia, no? Che hai detto giustamente te, cercava da tanto tempo, insomma, ci aveva provato 14 volte prima di riuscirci, no? Era stato, appunto, il momento in cui poi lui smise di correre per la promessa che aveva fatto a tua madre. Tu sei nata due anni dopo, giusto? Quella promessa e quel trionfo. Allora, tuo padre ha corso, e nel film si vede benissimo, secondo me, è una delle cose che si percepiscono meglio, proprio chiaramente. I piloti dell'epoca erano una sorta di pionieri, no? Perché oggi l'automobilismo è uno sport, e quindi i piloti sono sportivi, atleti, multimilionari, eccetera. All'epoca era tutto un altro mondo, no? C'erano delle auto, non c'erano le tute in i fughe, non c'erano i personal trainer, non c'era l'addetto stampa, non c'era niente. Erano dei piloti che guidavano soprattutto per la passione, per l'amore anche della velocità, no? Tuo padre è stato una leggenda dell'automobilismo. Come è riuscito, secondo me? Forse è stato l'esempio più lampante del fatto che non basta semplicemente il talento per arrivare, no? Ma serve anche altre componenti, il coraggio, la bravura, l'intelligenza. Quanto il fatto anche di essere ingegnere, perché tuo padre è stato anche un grandissimo ingegnere, lo ha aiutato a diventare quella leggenda che poi è diventato, secondo te? Beh, il fatto che fosse anche un ingegnere la dice lunga, perché Ferrari praticamente lo notò sin dai primi anni 30, perché a quel tempo i piloti, ma lo stesso Nuvolari, per necessità, cosa facevano? Iniziavano con le moto e poi passavano alle quattro ruote. E quindi il papà, il fatto che era un ingegnere che comunque aveva il pallino dell'aerodinamica, a quei tempi non esistevano le gallerie del vento, non si facevano degli sperimenti come si fanno oggi, quindi lui fu il primo praticamente ad applicare tutti i suoi principi di aerodinamica agli studi, prima le due ruote. Quindi si fece conoscere da Ferrari perché ha un gran premio di moto, lui si aveva una Norton che aveva modificata, aveva fatto tutti dei raggi aerodinamici, una posizione di guida molto aerodinamica, un serbatoio tutto affusolato, perché aveva studiato che con l'aerodinamica ottimale lui a parità di motore inferiore poteva andare più forte. E così, in quel gran premio, erano gli anni 30, si fece notare da Ferrari perché batté i piloti ufficiali Ferrari che avevano delle moto molto più potenti. Quindi questo fatto che era un ingegnere, sicuramente gli dede un plus apprezzatissimo da Ferrari, perché Ferrari naturalmente non erano stupido, ha detto io mi prendo questo pilota, perché col testo è un bravissimo pilota, era all'inizio della carriera, era un ingegnere, e quindi poteva dare dei consigli ai meccanici, dare delle tips che altri piloti non potevano dare. Quindi mio padre, secondo me, ha abbinato questa sua conoscenza particolare al fatto che fosse un pilota anche molto scrupoloso, molto pignolo, c'era il detto, diceva un'asse pignolo come Taruffi, perché comunque amava andare a fare tutte le ricognizioni, con mia madre andava, si svegliavano alle 5 di mattina a prendere tutti gli appunti, quindi aveva tutta una componente che faceva di lui, lui spesso diceva, ah io sono stato fortunato perché ho sempre portato la pelle a casa, però io so e anche mia madre che sicuramente il fatto che lui conoscesse alla perfezione il mezzo meccanico, quindi i pregi, i difetti, i limiti del mezzo meccanico, quindi quando poteva spingere o quando non poteva spingere. Nell'ultima mille miglia, ti faccio un esempio, lui aveva dei problemi alla trasmissione, anche nel film si parla di questa cosa qui, e quindi gli mancavano pochi chilometri, stavano nella seconda parte della gara e lui decise di moderare la sua velocità e moderare voleva dire andare a 250 all'ora e poi ci fu, nel film non l'abbiamo visto, però ci fu il sorpasso a Fontrips e lì diciamo decretò un po' la sua vittoria, tra l'altro lui quando tagliò il traguardo non sapeva neanche di essere, pensava di essere arrivato secondo e quindi capito, ho questa conoscenza dei propri limiti e della macchina è qualcosa molto importante per un pilota. Il tuo racconto ci fa capire che era proprio un altro mondo rispetto ad oggi, cioè proprio un'altra cosa. E anche le macchine erano completamente diverse. Meravigliose, meravigliose. Bellissime. Vengono rappresentate benissimo nel film. Bellissime. Ovviamente sono repliche perché non si poteva portare proprio quelle vere, ma comunque sono fatte veramente molto bene. Sempre a proposito del discorso, prima di passare ad altro, sempre nel film si vedono questi piloti che il giorno prima delle gare scrivono delle lettere ai propri familiari perché magari non arrivavano alla fine e quindi magari volevano lasciare un ricordo ai propri amati. Allora, nel film si vede quella mille miglia è stata purtroppo famosa anche per la tragedia di Gui Dizzolo. Si vede benissimo, viene raccontato nel film, una tragedia che ha portato alla morte di nove persone dai quali cinque bambini e per cui fu incriminato e poi assolto Ferrari. Nel film il racconto è agghiacciante, insomma la scena viene riproposta bene su questa lunghissima strada di campagna. A Gui Dizzolo. Sì, a 30 chilometri da Brescia. Vicino Brescia, esatto. Che ricordi hai tu di quell'episodio, nel senso dai racconti di tuo padre? Che cosa... tuo padre come la visse quell'esperienza? Malissimo, anche perché a quei tempi, si vede anche nel film, c'era molto cameratismo tra i piloti, cioè non c'era quella rivalità esasperata, no? Che c'è oggi, che ogni pilota sta col suo team manager e con il proprio team. Lì si andava a fare tutti insieme le ricognizioni. Cioè c'era una sana rivalità, ecco. E questo traspare molto nel film. E quindi mio padre ha vissuto, diciamo, una vittoria amara, perché comunque era felice di aver vinto questa gara che ha inseguito per tanti anni, però chiaramente morì un suo compagno di team. E quindi insomma la ricorda sicuramente come un episodio molto triste. Però purtroppo la morte e la morte dei piloti in quel periodo era un qualcosa all'ordine del giorno. E questo era anche un qualcosa che traspare dal film. Cioè Ferrari viene fuori proprio la sua sofferenza del fatto che comunque anche c'era Eugenio Castellotti l'incidente in prova, in gara. Cioè il fatto che comunque per lui i piloti erano come una parte della propria famiglia. Poi in fondo si è sempre detto che Ferrari dava più importanza alle macchine che non ai piloti. E invece in questo film, secondo me, viene fuori anche una parte di umanità di questo personaggio, di questo uomo così distante, così cinico, che siamo noi, siamo stati un po' abituati a vederlo così. Io tra l'altro ho avuto anche... Era la prossima domanda. Tu l'hai conosciuto. Sì, l'ho conosciuto, però ecco, dal film traspare anche un'umanità sotto tanti punti di vista, personale, emotivo, dei piloti, della squadra, che mi ha colpito tanto. Benissimo. Allora, Prisca, io ti ringrazio di essere stata nostra ospite. Ricordiamo, tra l'altro, non l'ho detto, ma è importante, insomma, che il personaggio principale, insomma, Ferrari, Enzo Ferrari, nel film viene appunto interpretato da Adam Driver, che, insomma, è un attore che qualcuno conosce, diciamo. È abbastanza conosciuto, no, sto scherzando, insomma, uno dei grandi, degli attori più in voga di Hollywood del momento. Prisca, quindi, grazie davvero ancora di essere stata nostra ospite. Grazie di questa bella chiacchierata, di questo ricordo, insomma, di questa leggenda che è stata Piero Taruffi. E appuntamento, quindi, nei cinema italiani. Tra l'altro, il film è stato presentato anche in anteprima a Maranella e a Modena ed è stato un successo clamoroso. Quindi, insomma, vi invitiamo ad andarla a vedere al cinema perché, insomma, le emozioni non mancheranno e anche la velocità. Grazie ancora, un saluto e a presto. Alla prossima. Due oggetti non possono occupare lo stesso punto nello spazio, nello stesso momento. La curva si avvicina a voi. Avete forse una crisi di identità. sono uno sportivo o sono un avversario? Se salite su una delle mie auto, ci salite per vincere. È lento. Enzo. Stai per fallire. Come può essere? Spendi più di quanto guadagni. Cosa devo fare? Vinci la mille miglia, Enzo. O dovrai chiudere i battenti. Così ci punti una pistola alla testa. Mi devi affidare il controllo delle tue azioni. Io devo avere tutte le carte in mano. Ma metà delle carte è in mano mia. Tutti noi siamo piloti. È la nostra passione letale. Una terribile gioia. Mi chiedevo quando saresti tornato. Come posso stare lontano? Se l'Italia sta cercando un capro espiatorio, allora eccomi. Avresti dovuto salvarlo. Avevi promesso che non sarebbe morto. Sono un padre che ha illuso se stesso. Due oggetti non possono occupare lo stesso punto nello spazio. Nello stesso momento. Enzo. Va e falli a pezzi. Sì. Grazie a tutti.